In Europa League la Lazio batte 1 a 0 il Cluj, questo il commento del tecnico bianco celeste Simone Inzaghi. Per quanto riguarda De Cagni secondo me ha fatto un'ottima gara, aveva giocato penso 10 minuti in Romania, secondo me si è dato da fare. Mi è piaciuto, è normale che non giocava da tanto tempo, non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi ho dovuto sostituirlo, ma per quello fatto avrebbe meritato di rimanere in campo. Patrick ha sentito un dolore al polpaccio, era molto preoccupato alla fine, adesso vedremo, sembrava un pochettino meglio adesso gli spoiatoi, ma ha sentito un qualcosina a livello del polpaccio, sarà da valutare. Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha commentato il prossimo sorteggio per quanto riguarda la seconda fase di Champions League. Comunque quotidianamente si vedono i miglioramenti e le doti di un grande giocatore, lui è un ragazzo molto umile che vuole migliorare e con queste doti sicuramente diventerà uno dei migliori al mondo. Se devo dire una squadra posso dire il Tottenham perché con il cambio di Mourinho in certe partite ti può dare qualcosa in più questo Osè, quindi è vero che febbraio e marzo sono lontani, quindi potrebbero cambiare tante condizioni fisiche e anche mentali. Però con questo cambio secondo me il Tottenham si è rimesso in corsa senza nulla togliere a pochettino che ha fatto una grande carriera, però nelle partite così Mourinho sa tirare fuori dai giocatori qualcosa in più. Le sub lussazioni riportate durante la stagione da poco conclusa e il dolore provato più volte nel corso delle gare hanno spinto Marc Marquez a sottoporsi ad un'operazione alla spalla destra. L'intervento è riuscito ed è stato svolto presso l'ospedale universitario di Barcellona. L'operazione è simile a quella eseguita nel 2018 alla spalla sinistra ma spiega la onda all'interno di un comunicato di natura meno aggressiva. Il campione del mondo della MotoGP sarà dimesso entro i prossimi due giorni, dopodiché inizierà il percorso di riabilitazione e l'avvicinamento ai prossimi test di Sepang. Il 2025 potrebbe essere un anno di svolta nel calendario della Formula 1, che potrebbe perdere una delle tappe più care agli appassionati in Monza a favore di un'altra località italiana finora preposta alle gare su due ruote, il Mugello. Ad annunciare la possibilità è stato il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Gianni, secondo cui spostare il Circus porterebbe benefici a tutto il territorio. Nel caso l'ipotesi si concretizzasse, il Mugello dovrebbe modificare almeno parzialmente la sua struttura, ma anche l'autodromo di Monza a breve dovrà effettuare alcuni lavori. E come ha sottolineato Gianni, non sappiamo se nei prossimi cinque anni sarà in grado di riqualificare il suo circuito per adeguarla alle esigenze del quinquennio successivo. Per questo, afferma il presidente, vedo nel Mugello una candidatura forte e un'alternativa valida agli attuali organizzatori del GP d'Italia. Indipendentemente da come andranno le cose, la tappa lombarda resterà in calendario almeno fino al 2024, in virtù degli accordi sottoscritti a settembre tra il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, e Cesi Chieri.